Ferrari Roloplast è un'azienda che ormai siamo la seconda generazione di stampatori, stampiamo materie plastiche, una piccola realtà, terzisti, contiamo attualmente 20 dipendenti, quindi proprio azienda artigiana a tutti gli effetti, con caratteristiche diciamo consoli, quelle che sono le piccole industrie, cioè molto molto flessibili, con problematiche molto evidenti. Abbiamo bisogno di un supporto tecnologico per affrontare determinate sfide che sono del periodo, sono innumerevoli perché le tempistiche, i costi, le problematiche che ci legano quotidianamente alle assenze piuttosto che alle rotture, sono tutte cose che dobbiamo aggiungere, dobbiamo sapere gestire. Noi abbiamo implementato un sistema di monitoraggio anni fa e raccoglie migliaia di dati in una giornata, però bisogna sapere anche gestire. Questo strumento di scheduling che stiamo portando avanti da un po' di tempo è un sistema che gestisce questi dati, quindi la gestione di questi dati non fa altro che agevolare il compito di noi umani, cioè noi persone abbiamo dei limiti, può gestire eventi anche indipendenti dalla produzione, quindi anche in un momento così particolare, di problematiche non legate alla produzione interna, ma legate a un mondo che si sta muovendo in modo anomalo, può dare determinate soluzioni, ecco. L'impatto che ha avuto Amagam nel rapporto alla Ferrari Roloplast è sicuramente importante, perché non per ultimo l'impiato fotovoltaico che stiamo implementando è stato fatto con il supporto di Amagam. I benefici che ci aspettiamo di avere sono innanzitutto un'ottimizzazione dei tempi e per quanto riguarda la programmazione della produzione comunque, quindi avere una miglioria tra l'ufficio produzione e la produzione stessa, perché comunque quando si fa la programmazione delle presse ci sono da mettere in conto tantissime cose che uno subito non ci pensa, ma poi quando ti ci metti ti rendi conto che le esigenze sono tantissime, dalla richiesta del fornitore, dalla materia prima e mancanza magari dell'operatore di quel giorno lì, quindi devi mettere in conto talmente tante cose che la persona non ce la può fare da sola. Il progetto con Ferrari Roloplast riguarda l'ottimizzazione della schedulazione ed è stato svolto sviluppando un algoritmo di matematica applicata che ottimizza la schedulazione. L'obiettivo è quello di sviluppare uno strumento nelle mani di chi fa la schedulazione in grado di poter essere solido, robusto, ma al tempo stesso elastico perché riesce a reagire in modo consono e in modo immediato ai diversi stimoli che provengono dagli imprevisti soprattutto, che sono all'ordine del giorno. Quindi la nostra soluzione non sostituirà mai il lavoro dello schedulatore ma potrà essergli di aiuto appunto per reagire ai diversi stimoli che si presentano di volta in volta e poter prendere la decisione migliore in tutte queste occasioni. Grazie. 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 Grazie.